Grazie Ingegner Nedda, mi pare che abbiamo avuto un quadro abbastanza esauriente, almeno di alcune delle possibili applicazioni e delle ricerche che possono trovare immediata applicazione pratica nel campo del rischio di incendi, della produzione agricola, nel cambio del risparmio idrico. E poi tutte queste vostre iniziative si possono correlare alle tante altre che so che per esempio il CINSA porta avanti, d'altra parte c'è già una collaborazione che è ormai data da tempo anche con l'Università di Sassari, il centro in questo senso vorrebbe avere almeno l'ambizione di poter rafforzare questi legami di cooperazione. Adesso andiamo avanti con il nostro lavoro e io do la parola al dottor Pierpaolo Duce che è responsabile di CNR IBMET di Sassari e parlerà appunto della partecipazione del CNR al centro di competenza APRAS. Prego dottor Duce. Buongiorno, prima di illustrarvi e formirvi alcune informazioni su quella che è la partecipazione del CNR ad imprese ambienti, ad APRAS volevo semplicemente fare una riflessione sul titolo che è stato dato a questo incontro innovazione ambiente, idee, scienza e tecnica per un futuro migliore. Questo titolo mi ha fatto venire a mente un aneddoto, non so se è vero o falso, comunque interessante relativo a Ford, il grande patron dell'industria automobilistica, colui il quale ha consentito la nascita dell'industria automobilistica negli Stati Uniti, il quale diceva se avessi chiesto agli americani di cosa avevano bisogno in termini di innovazione, probabilmente mi avrebbero risposto cavalli più veloci. Questo per dare un senso di quanto sia difficile il lavoro dell'innovazione, cioè far incontrare la domanda con l'offerta non è una cosa banale, molte volte la domanda pur cogliendo un aspetto che è cruciale, come nel caso degli Stati Uniti, avere mezzi di trasporto più rapidi per tenere dietro all'esplosione di quel continente, in realtà andava a richiedere un qualcosa che certo non avrebbe contribuito granché allo sviluppo del paese. Io vi darò un quadro, ovviamente non può essere esaustivo, di quello che è il contributo del CNR ad APRAS e semplicemente vi illustrerò quelli che sono gli istituti presenti qui in Sardegna e che partecipano, che hanno accettato di partecipare al consorzio, le competenze presenti e gli strumenti, intendendo con questi uno strumento in particolare che è il CNR, nel momento in cui si è fatto un vaglio delle possibili acquisizioni, ha indicato e che il consorzio ha ritenuto interessante, non solo per il CNR ma per tutto il consorzio. Il CNR partecipa ad APRAS e quindi ad Impresa Ambiente attraverso quattro istituti, l'Istituto di Biometeorologia di Sassari, l'Istituto per l'Ambiente Maniro Costiero di Oristano e due istituti che hanno la sede qui a Cagliari, l'IGAG, l'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria e l'istituto che recentemente, diciamo in tempi piuttosto recenti, ha aperto tra virgolette un proprio distaccamento qui a Cagliari, cioè l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima. Quindi come vedete un quadro di competenze ampio, sicuramente calzante con quelli che sono gli obiettivi e la missione del consorzio. Le competenze del CNR così molto sinteticamente riguardano ovviamente il monitoraggio ambientale e la modellazione dei processi che hanno un interesse per la protezione ambientale. Il tutto ovviamente finalizzato allo sviluppo di opportuni azioni e di di adattamento e di mitigazione al rischio ambientale, attraverso quindi strumenti, attraverso osservazioni in campo e attraverso modelli numerici di simulazione. Quali sono le tematiche su cui ci si concentra? Molte sono già state illustrate, quindi facciamo una semplice carellata. Senz'altro il rischio degli incendi boschivi, che è cruciale per la Sardegna, ma per tutta l'area mediterranea, attraverso collaborazioni ad esempio con un altro dei soci di APRAS, cioè l'Università di Sassari, per lo sviluppo degli indici di pericolosità degli incendi boschivi e attraverso una modellazione, delle modalità di propagazione del fuoco. Questo attraverso lo studio di casi di studio, cioè di eventi di incendio effettivamente verificatisi, in collaborazione anche con il corpo forestale, con l'ente foresta, e questo è un incendio del maggio 2006, verificatosi vicino ad Alghero, il Monte Doglia, e quindi si vanno ad analizzare questi eventi, a ricostruire l'evento, ad acquisire tutte le informazioni, tutti gli input, per poter poi calibrare e simulare le modalità con cui l'incendio si propaga. Questi sono alcuni, è una semplice, così, l'output della modellazione, in cui si mette a confronto, sulla base di diversi parametri di calibrazione, quella che è la performance del modello, quindi quanto il modello riesce a individuare l'aria percorsa dal fuoco e anche i tempi con cui l'aria è stata percorsa dal fuoco. In termini anche, e quindi non solo di superficie, ma anche di velocità di propagazione e di altezza delle fiamme, tutti ovviamente elementi che hanno delle ricadute anche da un punto di vista applicativo, operativo, particolarmente importanti. Si studiano anche dei casi di studio, tra virgolette, storici, come il famoso incendio della Curragia, a Tempio dell'83, un incendio che in qualche modo ha rappresentato una svolta per il sistema di controllo e di prevenzione dell'incendio in Sardegna, in quanto è stato uno degli eventi più drammatici che la nostra regione ha vissuto. Attraverso la modellistica e soprattutto l'acquisizione di tutta una serie di informazioni necessarie per ricostruire l'evento, si è riusciti a individuare in questo caso come sia stato un evento particolarmente drammatico in quanto si è sviluppato su due diversi fronti che si sono congiunti all'interno di un canyon, determinando quello che tecnicamente viene chiamato un incendio eruttivo, cioè una vera e propria esplosione, sia in termini di rapidità con cui si evolve il fenomeno, sia in termini di intensità delle fiamme, di altezza delle fiamme e questo è il motivo per cui le persone, gli operatori, anche i volontari che erano intervenuti, pur cercando di mettersi al riparo, sono stati letteralmente raggiunti, circondati e poi divolati dalle fiamme. Loro cercavano di raggiungere praticamente quella linea gialla che è la cresta, ma nel momento in cui il fuoco ha iniziato a propagarsi li ha raggiunti nell'arco di pochi minuti, non hanno fatto in tempo a mettersi in salvo. E quindi questo richiede, ovviamente è importante avere informazioni sul campo, su chi ha vissuto questo evento, per poter poi però simulare l'evento è necessario anche adottarsi di strumenti tecnici e scientifici particolari come ad esempio in questo caso la capacità di ricostruire il campo del vento al suolo e quindi ricostruire effettivamente le intensità e le direzioni del vento come hanno contribuito all'evolversi del fenomeno. Altra tematica è quella che riguarda la desertificazione, l'erosione con un approccio diciamo a diverse scale spaziali, sino ai lavori in campo con un monitoraggio di quello che è l'evoluzione di versanti sottoposti a fenomeni aerobisivi a seguito di particolari attività, in particolare quelle agropastorali. C'è un settore molto importante per l'intero APRAS, per l'intero impresa ambiente a cui contribuisce il CNR e dello studio dell'ambiente marino costiero con studi sulla fluidodinamica, questo è un esempio relativi fluidodinamica diciamo dei mari e questo è un esempio di una previsione che è stata prodotta da un modello messo a punto dall'istituto ambiente marino costiero e dai suoi collaboratori. Così come studi di geomorfologia dei fondali che hanno ovviamente un'importanza rilevante nel capire l'impatto delle maree, delle correnti marini nei processi di erosione costiera. Il rischio climatico sia attraverso degli esperimenti di simulazione climatica in pieno campo sia attraverso della modellazione che consente ad esempio per la Sardegna di mettere a punto e visualizzare quello che è il rischio climatico che la nostra regione dovrà sopportare durante questo secolo messo a confronto con il rischio climatico attuale, del clima attuale. È sempre legato il clima a studi e competenze e strumenti relativi a quello che è il bilancio dell'anidride carbonica negli ecosistemi naturali utilizzando sia strumenti avviotrasportati. Lo scao aeroe era è un piccolo, è un ultraleggero dotato di sensori che consente in sostanza di monitorare quello che è il flusso della CO2 su estensioni ampi oppure con strumenti puntuali come il sistema ID covariance, quindi la correlazione turbolenta che vedete sulla vostra destra. Gli strumenti che, lo strumento che diciamo l'Apras si è dotato su suggerimento anche del CNR, appunto un laser scanner 3D terrestre, questo diciamo durante la fase di collaudo che è recentissima, si è sfruttata l'occasione per fare delle misure sulla spiaggia della Pelosa che è una bellissima area diciamo naturale della Sardegna che però è a rischio in questo caso di totale scomparsa per tutta una serie di motivi. Questo strumento è uno strumento che è nato in ambito industriale per la ricostruzione tridimensionale di oggetti di produzione industriale e ha trovato via via applicazioni in diversi settori, quello ad esempio degli interventi di restauro, di beni architettonici, di palazzi storici eccetera e successivamente diciamo anche se molto recentemente trova applicazioni anche in campo ambientale nello studio ad esempio dei fenomeni di erosione in quanto consente una ricostruzione tridimensionale dell'oggetto, in questo caso una spiaggia ma può essere il versante di una collina e consente quindi di ricostruire tridimensionalmente e con precisione millimetrica quella che è la rugosità della superficie come adesso cercherò di mostrarvi in questo piccolissimo esempio, ecco questa praticamente è la spiaggia della Pelosa, è una vista ricostruita dopo tutta una serie di scansioni e si intuisce, ecco si intuisce qui quella che è la linea di spiaggia, si intuiscono da questa visione che diciamo dall'alto anche la rugosità delle superfici, in sostanza le linee di livello e questa invece è l'immagine sempre elaborata e rielaborata con una visione più vicina, più ravvicinata delle dune e quindi con la vegetazione che le ricopre e una ricostruzione di quella che è la forma della duna che può essere ovviamente monitorata nel tempo quindi si può ritornare sullo stesso punto con una certa frequenza e quindi andare a verificare nel tempo la dinamica di un processo di erosione come quello o comunque l'estrema dinamica di un sistema come ad esempio la spiaggia della Pelosa e questa invece è una sezione di una duna in cui risultano evidenti alcuni canali di erosione che ancora una volta per vari motivi tra cui la pressione antropica e gli interventi stanno lentamente intaccando questo delicato equilibrio che è la spiaggia della Pelosa a Stintino. Con questo ho concluso, mi scuso con gli altri colleghi di CNR se non sono riuscito a entrare nel dettaglio delle altre competenze ma penso ci sarà sicuramente un'altra occasione per discuterne più ampiamente.